La Juventus Football Club è uno dei club calcistici più prestigiosi d'Italia. Fondata nel 1897 a Torino, la Juventus ha una lunga e ricca storia nel calcio. Il club ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali, inclusi molti campionati italiani, Coppe Italia e trofei europei. La Juventus è nota per i suoi colori bianco e nero, e il suo soprannome è La Vecchia Signora. Il club ha avuto periodi di grande successo, soprattutto negli anni 80 e 90, quando ha vinto diverse Coppe dei Campioni, la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe. Tra i giocatori più iconici della Juventus ci sono leggende del calcio italiano come Alessandro Del Piero, Paolo Rossi, Michel Platini e Roberto Baggio. Nel corso degli anni, la Juventus ha avuto numerosi allenatori di prestigio, contribuendo al suo status di uno dei club più riconosciuti a livello mondiale. La Juventus gioca le sue partite casali.